Perché parlare di lavoro, dignità, sicurezza, salute? Perché l'Associazione Nazionale Magistrati deve riflettere e deve essere interpellata da questi temi? Perché noi siamo giudici, operiamo in una comunità, operiamo per la collettività? Perché la dignità, che non ha una codificazione normativa precisa, ma trova le sue tracce nella Costituzione insieme al diritto di solidarietà, una Costituzione che colloca il lavoro al suo primo articolo, è precetto fondamentale per la comunità dei giuristi e soprattutto dobbiamo essere interpellati da queste nuove forme di lavoro, parlo del lavoro su piattaforma, dei lavori digitali, forme di lavoro sempre più caotiche, poco regolamentate, poco tutelate, dove la dignità può essere fortemente compromessa. Quello che ci siamo detti oggi, che è un lavoro dignitoso e sicuro, è una sfida possibile. Lo Stato ci ha dotato di un apparato normativo completo e sufficiente, ma occorre sempre più vigilanza, consapevolezza e questo è uno dei compiti cui l'Associazione Nazionale Magistrati deve fondamentalmente assolvere.